Sono molto felice di ospitare questo scrittore perché è uno scrittore che io ho scoperto nel 90, addirittura con il suo bellissimo libro, Gli Sfiorati, che mi aveva colpito moltissimo. In questi giorni ho letto il suo nuovo libro, Il Colibri, è con noi Sandro Veronesi. Ciao Sandro! Beh, guarda che bella coppia oggi, Sandro Veronesi e Emma Marrone. Noi tra l'altro ci conosciamo, siamo amici. Ah, siete anche amici? Sì! Com'è questa storia? Sono un po' geloso. Beh, c'è Giovanni Di Mezzo, che è quello che mi porta agli amici pure a me, è quello maggiore che mi fa conoscere... Emma è molto amica, non Giovanni? Molto amica. E poi, insomma, anche se non ci siamo frequentati, io mi sono rinsaldato molto con lei quando l'anno scorso si è offerta a questi deficienti dei social, dicendo in un concerto quello che andava detto. E non tutti l'hanno fatto, anzi pochi l'hanno fatto, però lei è una... Io ogni volta che sento Emma che fa una dichiarazione contro delle teste di legno, di legno, di pollo, teste di pollo, ogni volta io vorrei chiamarla per esprimere solidarietà. Poi penso che della mia solidarietà non sa cosa farsi, però tante volte penso, dico, ecco, vedi che brava, che carattere. Io l'ho fatto diverse volte, ma non l'è mai arrivato, perché mi ha bloccato su Whatsapp, quindi... Ma scherzo, scherzo! Allora, sei di una buggerdi... No, io non credo di avere neanche il numero, per carità non mi permetterei, però Sandro... Mi stai chiedendo un modo per chiedermi il numero? Beh, era un modo, adesso... Attenzione! Chi vuole capire, capisce! Attenzione! Chi vuole capire, capisce! Sandro, a proposito di tuo fratello, gliel'hai dedicato il Colibri, questo libro? A Giovanni, fratello e sorella. Sì, perché io non ho mai avuto una sorella, naturalmente, nemmeno lui, a dire la verità, però c'è questa cosa che dentro questa famiglia c'è invece una sorella, tra l'altro è una figura molto bella... Dentro la famiglia del Colibri? Sì, nella famiglia del Colibri. Però finché c'è, perché poi sparisce abbastanza presto, è tutta un'altra cosa. Io me ne sono anche accorto, avendo quattro figli maschi e una figlia femmina, è un'altra cosa. Una femmina porta a una complessità dentro una famiglia. Siccome Giovanni è stato per me importante, anche se è minore, è stato importante. È anche stato importante in termini di complessità e quindi diciamo che come fratellanza è proprio completa se ci si mette anche un po' di sorrellanza. Anche un po' di sorrellanza. Senti, il Colibri, per dirlo a chi ancora non avesse letto il libro, perché ci auguriamo che lo leggano tutti, perché è veramente un bellissimo libro, il Colibri è il soprannome di Marco Carrera, che è il protagonista di questo libro. Perché Colibri? Dunque, da piccolo perché non cresceva, rimaneva piccolino e per sdrammatizzare una cosa che poteva anche essere inquietante, la madre lo chiama il Colibri perché comunque era molto aggraziato, veloce, come appunto l'uccellino che conosciamo. In realtà poi lui fa una cura sperimentale e cresce, però poi nel crescere la donna della sua vita, con cui lui poi non riesce a stare mai, per questi amori... L'amore platonico, diciamo così. Eccetera, ha un'illuminazione e capisce anche il perché loro non sono mai riusciti a stare insieme, lei che è una donna, diciamo, di quelle anche abbastanza inquieta, che va, si muove, torna, traslochi vari. Perché, dice, tu invece, come il Colibri, impieghi tutte le tue energie per cercare di restare fermo. Sbatti tanto le ali, 70 volte al secondo. 70 volte al secondo e il Colibri sta fermo lì. E potrebbe, come gli altri uccelli, visto che pesa poco, posarsi sul fiore. No, lui sta per mezzi propri. Come Prodi quando lo faceva Corrado Guzzanti. Sì, sì, sì. Sto fermo, sto fermo, non mi muovo. Il Colibri sta fermo, cerca di stare fermo. Il Colibri, Marco Carrera, naturalmente è un'attitudine, perché poi il mondo ti trascina e come nei cambiamenti. Però è l'illuminazione che spiega anche a questa donna perché non sono riusciti a stare insieme. Perché uno si muoveva forzennatamente e l'altro stava fermo. Senti, nel libro ci sono un sacco anche di citazioni. A parte l'onestà di Sandro, perché a fine del libro ci sono tutte le fonti. E quindi è uno che cita le fonti. E questo già merita un applauso perché... Beh, non sono fonti, sono altri autori ai quali ho rubato qualcosa. Allora glielo riconosco. Non tutti lo fanno, non tutti lo fanno. Però tu sei molto colto anche musicalmente. Citi spesso, più di una volta, Neil Young. Poi citi dei dischi che per me sono stati meravigliosi. Mingus di Johnny Mitchell. Poi c'è compleanno di Neil Young comunque. Oggi è compleanno. Che ci ascolta tutti i giorni. Tutti i giorni. Anzi, ha chiesto la cittadinanza americana per votare contro Trump. Io volevo commentare sia con Emma che con Sandro. Questa cosa, sapete, tutti sanno che Neil Young è canadese. Ha chiesto la cittadinanza statunitense per votare contro Trump. Volevo un commento. Beh, non è un caso che io ce l'ho citato tre o quattro volte, Neil Young. Bellissima questa cosa. È uno dei miei punti di riferimento. È sempre stato e continua a esserlo. Beh, Sandro, poi c'è un apparecchio di occupazione, insomma. Però questo libro arriva cinque anni dal... Beh, è la mia media. Cinque anni dopo l'ultimo, ma anche quello lì era venuto cinque anni dopo il precedente. Credo che una volta sono stati quattro, ma in realtà i romanzi sono distanti. Come mai, ecco questo? Perché non sei prolifico? Perché ci pensi troppo? Perché vuoi lavorare di più? No, perché mi svuoto completamente. Adesso sono vuoto come un secchio vuoto. Perché ho finito tutto quello che avevo. E quindi devo ricaricarmi. Il tempo che passa mentre scrivo il romanzo nutre il romanzo. Mentre posso scrivere altri libri, posso fare saggi, posso fare cronache, cose... Diciamo, in cui la scrittura te la procuri sul campo e poi la restituisci. E non è che siano proprio libri minori. Sono di minore impegno perché non devi attingere tutto da dentro di te. Anzi, secondo me, è importante alternare le due cose. Perché altrimenti è come se tu vivessi soltanto nel mondo tuo. Appunto, questo universo parallelo che poi diventa un tuo universo. Invece, se si fanno entrambe le cose, come scalare una montagna da due versanti diversi? Ci sono difficoltà diverse, però certamente, per come intendo io la scrittura di un romanzo, quello che c'è ce lo devi mettere tutto. Poi magari lo tagli, però non è rimasto niente, quindi ci vuole del tempo.